Il netto e calo i dati relativi alle positività da coronavirus in Sicilia. Il bollettino del 9 maggio porta 494 nuovi positivi con meno 4 terapie intensive e meno 25 ricoveri, 14 decessi e la quota dei vaccinati che raggiunge 1.685.791 dosi. In provincia di Siracusa sono 40 i nuovi positivi rispetto alle precedenti 24 ore e il dato è confortante anche perché viene supportato dal dato invece messo nel penultimo bollettino dove i casi sono quelli relativi all'8 maggio 851 e ancora per la provincia di Siracusa i nuovi positivi erano per l'8 maggio appunto 73 nuovi casi. Intanto porte aperte dal 7 maggio nei centri vaccinali della provincia di Siracusa per la fascia di età 50-59 con patologie certificate. Per tutti gli over 50 nati dal 1962 al 1971 è già possibile prenotare la vaccinazione sul portale ed è fissato l'inizio delle somministrazioni per giovedì 13 maggio. Intanto l'assessorato regionale alla salute e alla luce delle indicazioni fornite dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 ha disposto il riavvio della vaccinazione nei confronti delle personali scolastico, universitario, docente e non docente, non ancora sottoposto alla prima vaccinazione. Le aree di patologia da considerare per la definizione delle persone con comorbità di età inferiore a 60 anni senza arrivare ad essere considerate elevata fragilità sono malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologico, il diabete o altre endocrinopatia, l'HIV, l'insufficienza renale e patologia renale, l'ipertensione arteriosa, le malattie autoimmuni, immunodeficienze primarie, la malattia epatica, quelle cerebrovascolari e la patologia oncologica. E si vaccina anche il presidente della regione con AstraZeneca. Ho ricevuto la prima dose del bacino, AstraZeneca naturalmente, e sono contento di essere entrato anch'io nel novero dei siciliani che si avviano verso la totale immunizzazione. Spero questa mia idea, questa mia azione possa essere condivisa da quanti si trovano nelle mie stesse condizioni. Stiamo combattendo battaglie durissime per abbassare l'età dei cittadini ammessi al bacino, siamo finalmente arrivati anche nelle isole minori, andiamo avanti perché dobbiamo uscire il prima possibile da questo tunnel e sono convinto che ce la faremo. La cronaca da parte dei carabinieri controllo a noto sono stati arrestati un uomo per truffa e furto aggravato. Si tratta di Giovanni Battista Spicuzia di 37 anni colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino per una truffa commessa a Genova nel 2015 e per un furto in abitazione commesso nello stesso anno a Pio Sasco. Nella serata di sabato scorse carabinieri della tenenza di Florida e la stazione di Solarino sono intervenuti congiuntamente invece per interrompere una festa di compleanno che si stava tenendo sul terrazzo di un'abitazione di Solarino. Diverse sono state le chiamate al 112 da parte di persone che abitano nei pressi del luogo dove si stava festeggiando il diciottesimo compleanno. Ma i carabinieri hanno intuito subito dove si stava svolgendo la festa. Musica ad alto volume, forti luci si vedevano e si sentivano in piena notte anche da diverse centinaia di metri di distanza. I militari hanno elevato sanzioni per 10.000 euro e rilevante il fatto che 6 dei 14 soggetti sanzionati provenivano anche da fuori comune. Il mattinale di domenica dei carabinieri riporta l'arresto di un marito violento che ha tentato di sfuggire alla cattura. Prima forzando un posto di blocco, poi invece rintanandosi in un'abitazione privata al di fuori dell'abitato di Floridia. E' servito il supporto dei carabinieri dello squadrone eliportato dei cacciatori di Sicilia che insieme ai colleghi della tenenza hanno rastrellato le aree rurali del territorio dove si sospettava che il fuggitivo avesse trovato rifugio. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Cavadonna. La questura invece gli agenti sono intervenuti per violazione dei domiciliari e hanno fermato un uomo di 38 anni arrestandolo e ancora segnalando un giovane per uso di stupefacenti personali, un giovane marocchino di 20 anni trovato in possesso di modica quantità di hashish. A Lentini invece i controlli antidroga hanno fatto rinvenire e sequestrare 42 grammi di marijuana. Gli agenti del commissariato hanno trovato nei prezzi di via San Francesco d'Assisi una busta di plastica contenendo appunto la droga sequestrata. È stato pubblicato ed è consultabile sul sito del Comune di Siracusa il bando di gara europea per l'affidamento del servizio idrico integrato della città a darne notizia il sindaco e l'assessore Granenico. Dopo mesi di lavoro, studi e confronti tra sindaco, assessori, dirigenti e tecnici è stato deciso di procedere con un appalto della gestione della rete idrica e fognaria nell'emore che venga definito l'aggiornamento del piano d'ambito cui seguirà l'approvazione da parte dell'Assemblea territoriale idrica e la successiva individuazione del soggetto unico per la gestione pubblica complessiva. L'affidamento avrà la durata di due anni ma sono state previste due possibilità di proroga una di un anno, lo scadere dei primi due e un'altra ogni sei mesi. L'importo complessivo della gara è di 57 milioni di euro e il criterio di assegnazione è quello dell'offerta economica più vantaggiosa ma nella valutazione la proposta tecnica inciderà per il 75% e quella economica per il 25%. Molte le novità previste a cominciare dal fatto che per la prima volta si parla di qualità dell'acqua distribuita e di mitigazione ambientale con specifico riferimento al reflu depurato e alla destinazione finale che non può più essere il porto grande di Siracusa. Tra i servizi anche ripristino la gestione di tutte le fontane e fontanelle cittadine inclusi parchi, ville, piazze e giardini pubbliche ancora l'installazione di nuove docce temporanee nelle spagge libere la parziale messa in quota e sostituzione dei tombini stradali l'estensione della rete idrica potabile di fontane bianche da Cassibile a Via delle Muse l'ampliamento di alcuni tratti di rete foniale dal Plemirio a Via Bulgaria l'installazione di nuove casette d'acqua a osmosi inversa nelle zone più periferiche e balneari una seria campagna di sensibilizzazione la previsione di nuovi sportelli staccati per l'assistenza cliente la realizzazione del collettore fognario tra Via Costanzo e Viale Zecchino un'altra attenta programmazione di riduzione delle perdite lungo la condotta idrica, l'ammodernamento degli impianti e della rete di distribuzione. È trascorso un mese da quanto ci veniva comunicato che il sindaco aveva sollecitato all'assessore alla cultura a definire la questione dell'affidamento della casa del custode dell'associazione Christian Reiman la notizia ci indusse a sospendere l'azione di protesta dicono dal comitato Save Villa Reiman che è coordinato da Marcello Loiacono l'attesa è quella di poter finalmente con i propri mezzi ridare dignità ad una struttura che l'amministrazione continua a tenere nel degrado dicono non avendo ricevuto tutt'oggi al curriscondo e avendo disatteso anche la richiesta di convocare una conferenza dei servizi ci vediamo costretti non solo a riprendere con più forza la civile protesta di denunce di sollecito e di rivolgersi anche al CGA qualsiasi sollecito denuncia per stato di degrado Save Villa Reiman lo farà nell'interesso dell'ascito e verrà per conoscenza inviata anche alle autorità competenti Ieri festa della mamma e Salvo Sorbello presidente provinciale del forum associazioni familiari ripropone il report portato da Save the Children sull'assistenza alla maternità nella varie parte della nazione non c'è dubbio che la condizione sia stata peggiorata dalla pandemia che ha penalizzato le donne con figli nel mercato del lavoro e ne ha espulse da questo parecchie decine di migliaia resta una triste realtà che la scelta di mettere al mondo un figlio in particolar modo nelle nostre parti resta un enorme problema perché rappresenta ancora un carico economico e professionale molto pesante anche nella nostra provincia accade spesso che donne che desiderano fare figli dice Salvo Sorbello trovino ostacoli pressoché insormontabili non è accettabile che non ci sia un clima accogliente verso la maternità occorre quindi che tutte le istituzioni conclude il presidente provinciale forum associazioni familiari a partire dai comuni si impegnano maggiormente per mettere in campo misure adeguate di accompagnamento e sostegno alla maternità grazie a tutti Grazie a tutti.